Oggi edizione speciale Elampo di TG Tech, Alessandro, Davide, Sottoscritto e Rosario vi racconteranno tutto il CS 2013 in soli quattro minuti. Le novità fotografiche di questo CS 2013 si sono concentrate nell'ambito delle compatte, salvo per Samsung e Nikon che hanno messo in mostra anche le nuove mirrorless. Samsung NX300 punta sul Wi-Fi, mentre Nikon, oltre a Nikon One J3, ha presentato Nikon One S1 che diventa l'entry level della famiglia. Per Nikon sul piatto anche nuove ottiche, tra cui finalmente uno zoom ultra grandangolare dalla focale equivalente 18-35 mm. Per Samsung e Nikon in mostra anche qualche compatta, tutte all'insegna del Wi-Fi. Compatte rugged per Panasonic, Olympus e Sony, tre marchi giapponesi, hanno messo inoltre sul piatto compatte da viaggio con dimensioni contenute e zoom potenti e di qualità. Pentax scende in campo con MX-1 che sfida le compatte premium dedicate ai più esperti. Canon ha messo in mostra una nuova X-US e le nuove PowerShot, tra cui PowerShot N che con Wi-Fi e touch strizza l'occhio a chi è abituato a scattare con il telefonino. Grande lustro per Fujifilm con la tecnologia X-Trans CMOS che ora sbarca sulla compatta X20 e anche sulla PSC con ottica fissa X100S. Tablet, smartphone, ultrabook è un confine sempre meno netto a separare questa tipologia di prodotti. Mai come in questo CS di Las Vegas la tendenza è stata evidente, come dimostrano i numerosi prodotti che vedremo nel corso dell'anno. Un esempio viene dai nuovi ultrabook con piattaforma Intel Aswell che vedremo a metà dell'anno, degli libri di vere e proprie con schermi staccabili utilizzabili a modo di tablet o PC a seconda delle esigenze. Oppure Asus Type-C, un ultrabook a doppio schermo contrapposto che chiudendo lo schermo diventa di fatto un tablet. Che dire poi di Lenovo ThinkPad Elix? Di fatto è un tablet, certo, che però può essere inserito nella base con una tastiera in due modi differenti. A voi la scelta è sul come usarlo. Sempre da Lenovo arriva una proposta interessante, anche se di nicchia. Un PC portatile con scheda video inseribile al posto del lettore ottico. Di fatto è una GeForce GT 650M supplementare che raddoppia la potenza di calcolo in abbinamento con quella integrata. Arriva anche PaperTab dove c'è lo zampino di Intel, un dispositivo a metà strada fra un ebook e un PC con schermo flessibile stile ink. Mentre in casa AMD non mancano le proposte Trinity per fare concorrenza diretta al mondo ultrabook, come ad esempio il modello Asus U38. Insomma, mai come ora la parola d'ordine è mobilità e siamo sicuri che nel 2013 vedremo un sacco di variazioni su questo tema. Tra i settori tecnologici in maggiore sviluppo, come emerso anche in questo CS di Las Vegas, non può ovviamente mancare tutto ciò che è mobile, in particolare smartphone e tablet. Le novità in questo settore sono state davvero molte, a partire dalle nuove piattaforme Nvidia Tegra 4 e Qualcomm Snapdragon 600 e 800, caratterizzate da una potenza di calcolo sulla carta molto maggiore rispetto agli attuali Tegra 3 e Snapdragon S4. Per quanto riguarda i dispositivi sono invece sicuramente da segnalare i nuovi Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2 e Mate, ZTE Grandesse e Alcatel OneTouch Scribe X, tutti accomunati da display di dimensioni e risoluzioni generose e da piattaforme hardware decisamente importanti. Quad-core e display Full HD sono quindi a questo punto senza ombra di dubbio le linee guida per quelli che staranno i top di gamma di questo 2013. All'appello mancano tuttavia ancora molti dei marchi più conosciuti come Samsung, HTC, LG e Nokia. Appuntamento rimandato al Mobile World Congress? Ha occupato un ruolo molto importante al CS anche il gaming. Le due notizie bomba arrivano da Nvidia e da Valve che hanno presentato nuove soluzioni destinate a cambiare l'industria dei videogiochi. NVIDIA ha addirittura annunciato il suo ingresso nel mercato delle console portatili mettendosi in competizione con PS Vita e 3DS. NVIDIA Shield è costruito sul nuovo processore Tegra 4 e visivamente molto simile a un controller per Xbox 360 agganciato a un piccolo display. Shield è inoltre in grado di visualizzare in streaming i giochi che sono processati da un'unità PC centrale dotata di scheda video GeForce GTX 650 o superiore. Valve invece ha tolto i veli dalla preannunciata Steambox. Si tratta di un dispositivo dalle piccole dimensioni con Steam nella variante Big Picture preinstallato e operante su sistema Linux. Steambox è pensata alla stregua di un server per l'intrattenimento casalingo capace di servire diversi monitor contemporaneamente. Ma Valve non trascurerà neanche l'universo mobile visto che sta ultimando i lavori sul nuovo controller biometrico e sul nuovo sistema di tracciamento dello sguardo dei giocatori. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo alle pagine di GameMag. E' tutto per questa edizione Lampo di TG Tech ci vediamo al prossimo appuntamento e intanto fateci sapere cosa ne pensate di questo esperimento.